Ha ucciso il fratello colpendolo con un martello e poi si è consegnato ai carabinieri. L'omicidio è stato commesso stamattina a Bitti, nell'azienda agricola di famiglia, in località Saylussu, lungo la strada che conduce alla colonia penale di Mamone. La vittima è Giorgio Pitalis, allevatore di 62 anni. Ad uccidere il fratello Giuseppe, di 56 anni. L'uomo, anche lui allevatore, dopo aver commesso il delito, si è costituito ai carabinieri dalla compagnia di Bitti. I militari sono recati sul luogo dell'omicidio e hanno trovato il corpo della vittima. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso di Giorgio Pitalis. Sulla scena del crimine è presente anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Nuoro e il medico legale. I carabinieri hanno anche recuperato l'arma del delito. In corso di ricostruzione, la dinamica è il movente dell'omicidio, che sarebbe avvenuto al culmine di una lita tra i due fratelli. L'omicidio di Giorgio Pitalis ha sconvolto la comunità di Bitti.